e il benvenuto in questo nuovissimo corso sul Natural Language Processing offerto da Profession AI. L'idea di costruire un computer in grado di comprendere e utilizzare il linguaggio naturale in modo da renderlo in grado di dialogare come un essere umano è sempre stata presente nella fantascienza. Ne sono ottimi esempi Isaac Asimov, autore di diversi racconti sull'argomento, poi uniti all'interno della raccolta Io Robot, dalla quale è anche stato tratto un film con Will Smith e Arthur C. Clarke, autore del libro 2001 Odissea nello spazio poi portato sul grande schermo da niente po' po' di meno che il grande Stanley Kubrick. Chi l'ha visto sicuramente si ricorderà dell'intelligenza artificiale psicopatica al 9000. Sin da prima dell'avvento dell'informatica come la conosciamo oggi quindi sto parlando della prima parte del Novecento gli scienziati hanno ipotizzato come questo argomento quindi la creazione di una macchina in grado di dialogare come un essere umano potesse uscire al di fuori dei libri di fantascienza e diventare realtà. Il campo dell'informatica che si occupa di questo argomento è il Natural Language Processing nello specifico il Natural Language Processing è quella branca dell'informatica che si occupa di insegnare ai computer ad analizzare, comprendere ed eventualmente utilizzare il linguaggio naturale e per linguaggio naturale intendo qualsiasi lingua utilizzata da noi esseri umani per dialogare che sia inglese, francese, italiano, spagnolo, giapponese, cinese o Zulu non fa alcuna differenza. Il Natural Language Processing è la base di moltissime tecnologie utilizzate, usate quotidianamente da milioni di persone Un esempio recentissimo sono Google Assistant e Amazon Alexa gli assistenti domestici sempre più presenti all'interno delle nostre abitazioni Il Natural Language Processing, in accoppiata con il Machine Learning sono la base della loro capacità di comprendere e utilizzare il linguaggio naturale Lo stesso discorso vale per Siri, l'assistente virtuale di Apple presente all'interno di ogni iPhone Google è forse la più grande compagnia al mondo a sfruttare le potenzialità del Natural Language Processing unito al Machine Learning Un ottimo esempio è Google Translate il servizio di Google che ci permette di tradurre del testo tra centinaia di lingue differenti Se negli ultimi anni hai notato un netto miglioramento nell'accuratezza delle traduzioni di Google Translate il merito è proprio nei progressi compiuti nel Natural Language Processing e nel Machine Learning Ma Translate non è l'unico servizio di Google a utilizzare il Natural Language Processing L'intero business di Google è basato su questa tecnologia Infatti Google Search utilizza una perfetta combinazione di semantica e statistica insieme alle ultime scoperte nel settore dell'intelligenza artificiale e l'enorme quantità di dati che Google ha a disposizione per fornirci i migliori risultati ritagliati intorno a noi per ogni nostra ricerca Un'altra fantastica applicazione del Natural Language Processing che tratteremo più volte in questo corso è la Sentiment Analysis che ci permette di estrarre opinioni e stati d'animo da interi documenti di testo Il Natural Language Processing non è una novità ma è un argomento trattato già da oltre un secolo e ha attraversato tre fasi La prima, interamente basata sulla linguistica computazionale e l'utilizzo di regole linguistiche La seconda, in cui il Natural Language Processing si è trovato coinvolto nella fortissima ondata di innovazione portata dal Machine Learning e la terza è attuale, quella del Deep Learning e dell'utilizzo dei Big Data La linguistica computazionale è l'approccio più tradizionale al Natural Language Processing che si basa appunto sull'utilizzo di regole linguistiche create dai linguisti computazionali o dagli ingegneri della conoscenza Questo approccio si basa principalmente sulla logica ed è più datato rispetto agli altri più recenti però è ancora piuttosto utile in diversi casi Durante il corso vedremo quali con delle applicazioni pratiche Il Machine Learning, sicuramente ne avrai sentito parlare è il campo dell'intelligenza artificiale che vuole dare ai computer la capacità di apprendere in modo autonomo dai dati Utilizzando il Machine Learning non abbiamo più bisogno di definire delle regole grammaticali manualmente e non abbiamo neanche più bisogno di avere una conoscenza del dominio d'applicazione quindi della lingua specifica così profonda perché sarà l'algoritmo di Machine Learning a estrarre le regole per conto nostro direttamente dai dati Durante il corso vedremo le più recenti applicazioni del Machine Learning al Natural Language Processing e faremo diversi esempi pratici Infine veniamo al Deep Learning che è il settore del Machine Learning che sfruttando modelli ispirati al funzionamento delle reti neurali permette di apprendere relazioni non lineari anche molto complesse utilizzando una grande quantità di dati Mi rendo conto che al momento questa frase può sembrare un po' astratta ma non preoccuparti ti garantisco che al termine del corso sarai in grado di creare le tue architetture di reti neurali artificiali per risolvere diversi problemi di elaborazione del linguaggio naturale E se per qualche motivo non dovessi essere soddisfatto hai 30 giorni di tempo per chiedere un rimborso totale senza dover dare nessunissima spiegazione